il buon Elia Gorini, buonasera Elia di Passione Calcio su San Marino RTV, buonasera come stai? benissimo ragazzi, benissimo, saluto a tutti, grazie dell'invito, ciao buonasera la mia prima domanda, subito voglio chiederti come è nata l'idea di Passione Calcio, quando è nata e quali sono sempre stati i suoi obiettivi guarda allora Mattia, siamo partiti nel 2013 con questa trasmissione, l'idea è nata così perché a San Marino si stava diffondendo molto in maniera anche abbastanza esponenziale il calcio femminile stava partendo questo progetto e allora abbiamo pensato ma perché non cominciare anche noi a parlare di calcio femminile insieme a Paolo Crescentini che conduce con me dalla prima edizione questo programma a San Marino RTV abbiamo trovato la disponibilità del nostro direttore poi a me fa piacere che tu me lo chiedi anche perché spesso veniamo noi identificati come la televisione in un paese estero ed è vero perché San Marino RTV è la tv di Stato della Repubblica di San Marino ma è una televisione consociata RAI quindi la proprietà della nostra emittente per il 50% è RAI, il nostro direttore generale è un dipendente della RAI e quindi nel 2013 abbiamo pensato di iniziare per farvi capire quanto si è sviluppata questa cosa le prime puntate, la prima edizione durava 18 minuti adesso la nostra trasmissione in tv dura un'ora e la trasmettiamo su Sky quindi gli abbonati Sky, sulla piattaforma Sky ci possono vedere sul canale 520 e da ottobre c'è questa grande novità che San Marino RTV e quindi anche la nostra trasmissione sul calcio femminile è visibile in chiaro in tutta Italia sul canale 831 perché San Marino RTV è visibile in tutta Italia e quindi lo dico con orgoglio siamo probabilmente l'unica emittente televisiva che fa un programma interamente dedicato al calcio femminile visibile sia su Sky che in digitale terrestre oltre allo streaming dicendo poi siamo partiti piano e nel momento forse giusto e adesso ci stiamo togliendo qualche soddisfazione vedendo che ci sono tantissimi altri bravissimi giornalisti come voi che si occupano di calcio femminile perché più se ne parla meglio è chiederti anche che soddisfazione più che altro è stata quando il San Marino è salito in Serie A soprattutto ti chiedo questo tuo ricordo perché eravate abituati a parlare soprattutto di Serie B e Serie C è vero guarda Mattia è stata una grande soddisfazione a metà ti spiego perché perché come ricorderete il campionato non è stato vinto sul campo è arrivato dopo grazie all'algoritmo che è una cosa quindi un mese per capire questo algoritmo nel senso chi va, chi scende la Lazio che diceva no siamo avanti noi no è avanti San Marino e via dicendo quindi la conferma è arrivata a giugno quando come si dice un po' in gergo bocce ferme non è che ci siamo anche noi goduti la promozione con la testa promozione però è stata una bella soddisfazione perché poi voi comunque considerate che la Repubblica di San Marino è uno stato di 33 mila abitanti e debuttare la prima partita ad Empoli poi è andata a Malino con tanti gol ma giocare la seconda partita in casa San Marino contro il Milan di Ganze lì c'era Valentina Giacinti l'Inda Tucci e Ricimini tutta una serie di giocatrici che noi in quegli anni lì abbiamo sempre soltanto visto in televisione soprattutto quando è esploso molto il campionato di serie A femminile è stata una bella soddisfazione un sogno che speriamo si possa rivivere anche se oggettivamente è veramente molto difficile perché adesso anche con la formula che si andrà a delineare delle dieci squadre diventerà veramente molto complicato pensare di arrivare in serie A però è vero anche quello che dicevi tu Mattia a noi fa piacere molto parlare anche cioè noi vorremmo far passare un messaggio quello un po' anche del calcio raccontato cioè nel senso che come vedete quando seguite la nostra trasmissione cerchiamo un po' di parlare delle ragazze soprattutto di chi fa calcio femminile ed è un po' più facile adesso farlo con la serie C farlo con l'eccellenza perché lì un po' si rispecchia anche questo principio del nostro programma il programma si chiama Passione Calcio perché come sapete bene le ragazze che fanno calcio devono dividere il loro tempo tra studio, lavoro, famiglia allenamenti alle otto e mezza della sera con meno dieci gradi queste cose qua noi vogliamo raccontare un po' questa passione e in serie B e in serie C ce n'è tanta poi è anche vero che la serie A è diventata abbastanza poco accessibile per le altre televisioni che non sono quelle diciamo ufficiali ufficiali dei club quindi questo è cambiato molto però è importante secondo me secondo noi che se ne parla noi lo facciamo da nove anni e lo facciamo devo dire con grande soddisfazione perché poi vedete le ragazze che vengono a trovarci in trasmissione la scorsa settimana questa settimana avevamo una rappresentanza del Vicenza la scorsa settimana è venuto il Corrote Franca quindi nel corso degli anni siamo riusciti a portare a San Marino diverse squadre questa è stata una gran bella soddisfazione Chiedo anche comunque della stagione di adesso di questo San Marino che comunque era partita come una sicuramente delle favorite anche nel campionato come diciamo sempre noi il più bello del mondo e il più difficile probabilmente del mondo e ti chiedo un po' un tuo parere su questa stagione perché poi c'è stato anche il cambio in panchini il ritorno di Conte Guarda, secondo me è un campionato un po' ancora da capire perché purtroppo il Covid rappresenta sempre negli ultimi anni ha rappresentato veramente una spada di Damocle incredibile perché poi quando tu vai in campo e pensi di poter schierare una formazione e poi il venerdì magari ti fai i tamponi ti salta fuori che c'hai cinque giocatrici positive devi un po' reinventarti tutte quindi forse l'avversario più duro in questa stagione è proprio il Covid e questo mese e mezzo nel quale non si è giocato l'ha confermato e devo dire che ci aspettavamo in generale qualcosina in più proprio perché abbiamo sempre pensato e ho sempre pensato che chi retrocede parte un po' davanti alle altre quindi Pink Bari e San Marino un po' come le più accreditate per fare bene insieme al Tavagnacco insieme naturalmente al Brescia il Como non mi sorprende merita sicuramente di essere lì anche perché diversi giocatrici giocavano nella San Marino Academy quindi Greta Di Luzio Aliso Rigaglia per ricordarne un paio Silvia Viverito o altre giocatrici quindi credo che meriti lì quella posizione devo dire però che secondo me ancora è lunga è molto lunga San Marino paga anche un po' il cambio di allenatore perché Alessandro Recenti che ha fatto veramente benissimo a Ravenna l'anno prima ha fatto una scelta diversa adesso è tornato in Svizzera a fare il secondo di Tramezzani al Sion nel campionato maschile e quindi lì c'è stata una scelta sono partite con un allenatore che ha un modo di giocare diverso da quello di Alain Conte però Alain Conte è sempre comunque l'allenatore della doppia promozione come dico scherzando con lui ha le stesse iniziali di un altro Conte quindi lo prendo sempre in giro perché gli dico sei l'unico che può dire che ha la C e l'A all'interno del suo nome partito dalla C è arrivato l'A sono le sue iniziali quindi era per forza per forza un predestinato penso che secondo me potrà ancora dire molto la San Marino Academy è comunque un campionato bellissimo quello di Serie B adesso non me ne vogliate ma secondo me forse anche un pochino di più di quello di Serie A perché ormai quello di Serie A è diventato talmente tanto assolutamente d'accordo l'abbiamo sempre detto l'abbiamo sempre detto monotono purtroppo bisogna soltanto capire quanto vince la Juventus la domenica con quale risultato più se vince e questo secondo me toglie un po' di bellezza la bellezza della Serie B lo abbiamo detto anche nella nostra trasmissione il fatto che con questa grande accelerazione del professionismo nel campionato di Serie A oggi tantissime calciatrici attorno ai 30 32 anni che non possono più pensare di fare chissà che cosa nel campionato di Serie A e quindi nel professionismo scendono di categoria e di fatto abbiamo un campionato di Serie B con nomi che hanno fatto la storia del calcio femminile in Italia questo secondo me è un bel vantaggio poi ne retrocedono tante dalla Serie B alla Serie C quindi è molto più competitivo secondo me ogni partita conta veramente tanto Volevo chiederti dato che voi avete iniziato nel 2013 con questa trasmissione tu in questi anni come hai visto cambiare il calcio femminile ma non a livello solo di San Marino a livello generale diciamo a livello di calcio femminile vi posso dire questo noi abbiamo allora andrebbe un po' visto da due punti di vista Luca perché allora c'è la parte del giornalista e la parte un po' del tifoso secondo me allora per quanto riguarda la parte del giornalista ho visto proprio un livello tecnico un livello di preparazione che è aumentato in maniera esponenziale quando siamo partiti noi il campionato di Serie A femminile era a 16 squadre e c'erano squadre che facevano fatica a fare un punto per farti capire oggi è diventato un po' più competitivo più pubblicizzato più interessante probabilmente anche grazie naturalmente alla nazionale via dicendo e anche i risultati che fa la Juventus in Champions League femminile perché quello comunque è un bene per tutto il movimento e quindi devo dire che c'è stato anche nel ritmo del gioco perché chi si avvicina al calcio femminile oggi lo valuta un po' da uomo che va a vedere la partita di calcio femminile e dice no questo non è il mio sport perché vanno troppo piano queste cose qua che sono proprio gli stereotipi del calcio femminile io dico sempre una cosa su questa cosa qua tra bellezza del calcio maschile e calcio femminile è come se tu domani confrontassi 100 metri uomini e 101 metri donne sono per forza differenti devi avere un po' la testa per guardare la partita del calcio femminile per esempio nel calcio femminile ci sono gesti tecnici molto più esaltanti rispetto magari a quello maschile oggi nel calcio maschile si salta meno l'uomo per esempio perché è sempre più possesso palle giropalle nel calcio femminile vedi dei gol o vedi delle cose che sono veramente incredibili i gesti tecnici incredibili ti aggiungo una cosa dal punto di vista del giornalista da questo punto di vista invece per noi che facciamo un po' più televisione è stato un po' un cambiamento all'indietro perché adesso è diventato un po' meno accessibile ma anche il contatto con la categoria cioè era un po' più semplice organizzare un'intervista avere ospiti in studio o una calciatrice di serie A oggi invece è un po' più complicato perché naturalmente le regole che sono state esportate nel calcio femminile sono un po' quelle dei maschi del calcio maschile quindi giustamente anche gli uffici stampa applicano le disposizioni uguali degli uomini alle donne e questo magari secondo me è un po' penalismo perché io penso parlo per noi che facciamo che facciamo tv per la carta stampata è un po' più semplice perché poi comunque racconti noi abbiamo bisogno sempre del supporto delle immagini e dei video e quelli sono un po' più complicati però per voi come noi che lo seguiamo da un po' di tempo cioè l'evoluzione se prima era veramente quasi un passatempo adesso è diventato impegnativo secondo me ed è anche più bello forse ma questo lo dico anche per il calcio maschile si è perso un po' di romanticismo perché io sono adesso voi siete magari lo zio Pino che è un po' più grande di me se le ricorda ma noi che abbiamo vissuto un po' il calcio degli anni 80 anni 90 era proprio giornalista in campo appena finisce il primo tempo intervista a fine partita si va negli spogliatoi a fare la squadra che ha vinto il campionato queste sono cose che non puoi più fare voglio dire quindi è un po' cambiata anche il giornalismo e la mia domanda è un po' personale vai qual è il ricordo più bello che hai della stagione in serie A del San Marino la vittoria per 1-0 contro la Florenzia perché quella è una partita in quella stagione lì ho avuto la possibilità di commentare la partita per la nostra per San Marino RTV perché essendo poi tv ufficiale in quella stagione di San Marino della San Marino Academy abbiamo trasmesso tutte le partite e quella partita lì è stata la prima partita che la San Marino Academy ha giocato in serie A allo stadio di San Marino al San Marino Stadium che è lo stadio dove gioca la nazionale di San Marino dove si giocano le finali dei campionati di San Marino di calcio maschile dove giochiamo le coppe europee cioè è un contesto importante per noi perché per dirvi per far capire chi ci ascolta a San Marino non tutti sanno che c'è una nazionale di calcio maschile che da 32 anni fa qualificazioni mondiali ed europee ed escluso la Francia e il Portogallo contro le quali non abbiamo ancora mai giocato tutte le altre nazionali d'Europa o quasi l'hanno giocato contro San Marino quindi per farlo capire a novembre c'era Eric King che giocava al San Marino Stadium contro la nazionale di San Marino per dirne uno Ibrahimovic Snyder tutta questa gente qua e quella partita lì della San Marino Academy è stata giocata nello stadio principale di San Marino quindi vince 1-0 ha segnato questo gol Jessica Menin che è il capitano ed è anche una delle giocatrici sanmarinesi della squadra è sanmarinese argentina perché ha origine argentina ma sanmarinese ci sono state si sono incastrate Valentino tutta una serie di cose che hanno fatto di quel momento una roba storica cioè doveva andare così per forza lo stadio vince 1-0 la prima vittoria segna oltretutto il capitano anche sanmarinese e soprattutto ultima partita dell'anno così abbiamo fatto anche un Natale tranquillo perché poi dopo sai quando vai alla sosta natalizia che hai vinto sei anche un po' più un po' più sereno quello è il ricordo della serie A assolutamente assolutamente più bello se devo dire la verità se poi guarda ti aggiungo una cosa visto che siamo tra amici una delle cose che invece a livello di trasmissioni sono ormai quasi oltre 250 puntate che abbiamo fatto in questi nove anni una delle puntate alle quali siamo più legati è stata una puntata fatta col Vittorio Veneto che aveva vinto il campionato di serie B era salito in serie A e in quella puntata lì venne tutta la squadra del Vittorio Veneto a San Marino per partecipare a questa trasmissione e sono particolarmente legato per un aspetto anche curioso in quei giorni lì c'era Pippo Baudo che stava registrando una trasmissione a San Marino RTV per la nostra emittente lo abbiamo incontrato nel corridoio e gli ho chiesto se aveva voglia di fare un saluto alle ragazze del Vittorio Veneto lui all'improvviso è entrato in trasmissione spettacolare quindi noi abbiamo abbiamo avuto a passione calcio su San Marino RTV Pippo Baudo per farvi capire e poi un'altra puntata naturalmente che per noi è proprio la prima puntata storica che abbiamo fatto quella proprio che ricorderemo per sempre quella che abbiamo fatto con l'Italia under 17 che ha vinto che è arrivata terza al mondiale e siamo riusciti a portare di quella nazionale lì 15 ragazze tutte a San Marino cioè che era una roba per noi incredibile perché cioè comunque portare ragazze minorenni tutti a San Marino si sono organizzate in maniera splendida e lì abbiamo capito anche quanta fame e voglia queste ragazze avevano perché sono state disponibili a fare treno da sole per raggiungere San Marino per dire partecipare a questa trasmissione abbiamo ripercorso tutta tutta quell'avventura fantastica in Costa Rica questo è per dirne un paio perché poi noi come avete capito come diceva Luca come ricordava anche Francesco e dicevi anche tu Valentina noi sulle storie cioè una domanda che faccio sempre anche se sembro un po' il lubrano della situazione è per quale motivo la nostra ospita ha scelto il calcio femminile insieme a Paolo Crescentini puntiamo molto su questa cosa perché ci piace far raccontare alle ragazze il fatto che siamo partiti in mezzo al pregiudizio giocavo con i maschi poi è successo questo quest'altra cosa ancora adesso così oggi invece è diventato tutto molto più naturale anche a San Marino parlare di calcio femminile non pensiate che è vero noi questa trasmissione ha dato veramente molto anche a San Marino la San Marino Academy ma anche alla cultura proprio generale del paese oggi quando giriamo per San Marino e incontrano Paolo Crescentino oppure me siccome ci conosciamo tutti trovi sempre quello che ti dice ah ho visto le ragazze domenica bella partita hanno giocato con l'Inter in Coppa Italia ah sì ho visto ma quanto è brava quella ragazza è diventato molto più normale ed è la normalità l'elemento secondo me di forza dovrebbe diventare una cosa normale parlare di calcio femminile quasi passare inosservata secondo me perché vorrebbe dire che è diventato normale per tutti io ho che faccio un nome Chiara Beccari ma mi ha anticipato a me però fino a me ognuno anticipa l'altro e alla fine perché mentre tu parlavi io pensavo no io devo fare questa domanda e l'ha fatta Luca e l'ha fatta la domanda e l'ha fatta Valentina allora a questo punto ti faccio quando ci sarà la nazionale femminile di San Marino spero dopo che smette Chiara Beccari questa è la domanda ci posso dire a malincuore che probabilmente Chiara Beccari avrà smesso da un bel po' ho capito sì perché voi dovete considerare una cosa in nazionale io faccio parte di quelli che ricordano Bonini che non poteva giocare in nazionale italiana e non aveva la nazionale poverino allora Massimo apro la parentesi e la chiudo Massimo ha giocato in nazionale italiana under 21 poi è nata e poi è nata la nazionale sanmarinese di calcio la prima partita del 1986 quindi quando Massimo era all'apice perché con la Juventus ha vinto tutto in quegli anni lì e quindi lui ha fatto una scelta ha fatto una scelta di cuore poteva giocare anche in quella italiana nel momento in cui avesse giocato in quella italiana si sarebbe precluso il discorso nazionale di sanmarino ha fatto la scelta di cuore perché lui se glielo chiedete ve lo dice io sono sanmarinese per me è nato sanmarino la mia nazionale è sanmarino e è diversa la situazione di Chiara perché come potete capire per giocare in nazionale bisogna avere il passaporto di quel paese e noi a sanmarino non dico undici ma venti ragazzi sanmarinesi da nazionale non ce li abbiamo ma lei non è sanmarinese di nascita? Chiara sì è sanmarinese e italiana però ce ne vorrebbero altre venti come Chiara ma poi non c'è il campionato femminile per cui non puoi fare nazionale se non hai un campionato almeno se non hanno cambiato le regole no no quello quello è vero ci sono delle eccezioni perché se pensi che il Liechtenstein non c'è il campionato quello stavo dicendo non hanno campionato il Wadut votano votano sì esatto no no ma poi guarda noi a sanmarino abbiamo 32 federazioni sportive quindi se voi dite uno sport noi a sanmarino lo facciamo e oltre all'attività con squadre in Italia ci sono comunque anche attività interne vi faccio un esempio abbiamo una squadra di rugby che fa un campionato italiano ma regolarmente ogni anno si svolge in un weekend il campionato sanmarinese di rugby che poi permette comunque di giustificare l'attività questo vale anche per altri sport c'è un campionato sanmarinese di pallavolo e c'è un campionato sanmarinese di pallacanestro però ci sono squadre anche che giocano di sanmarino che giocano in Italia per farvi capire sanmarino ha la squadra campione d'Italia di baseball con sanmarino baseball ha vinto la finale scudetto la scorsa estate contro Bologna però c'è un'attività anche interna di baseball che non è un campionato perché trovare così tante persone è difficile a livello di calcio femminile arrivare a pensare di avere un campionato è un po' complicato ma ancora di più pensare alla nazionale Pino perché devi avere un po' di calciatrici sanmarinesi non è semplicissimo acquisire la cittadinanza così rispondo alla successiva domanda che generalmente ci fanno tutti ma come faccio a giocare in nazionale e per giocare in nazionale di sanmarino le naturalizzazioni sono un po' complicate da noi cioè nel senso che casi come Joao Pedro Giorginio queste cose qua sono un po' più complicate o se hai un parente alla lontana voglio dire va bene però per farvi capire se vieni a vivere a sanmarino giochi in nazionale dopo cioè diventi sanmarinese dopo 15 anni diciamo che sono complicate anche in Italia tranne che nel calcio e in pochissimi altre sport di squadra ecco mettiamola così cioè per dirvi un giocatore che probabilmente conoscerete tutti Sergio Flocari Sergio Flocari è sposato con una ragazza di sanmarino da 10 anni si è sposato nel 2012 nel 2022 cioè adesso lui potrebbe diventare sanmarinese ma ha smesso di giocare ha smesso di giocare per chiare anche meglio visto che sta facendo cose veramente molto importanti anche con la ma è un nome l'ho fatto a casa sì sì ma è veramente lei è un prodotto del calcio del settore giovanile di sanmarino e vi posso dire che non è l'unica perché comunque le sorelle Zaghini che sono state convocate adesso per lo stage sono portiere di questo momento c'è una buona primavera quest'anno c'è una buona primavera non ci sono non ci sono però tante giocatrici sanmarinesi diciamo se vuoi fare un confronto con chi però comunque è importante ci sono due tre bambine a livello proprio di settore proprio di base quindi under 10 che in prospettiva non faccio nomi per non per non mettere non dire niente perché può succedere di tutto ma ce ne sono un paio che se poi esplodono tra qualche anno ci rivediamo qua e poi volentieri veloci ci sei a Roma? no perché comunque la mia attività di giornalista a San Marino comprende anche altri sport altre cose come puoi immaginare ricordavo che seguivi fuori casa spesso volentieri sì alcune volte alcune volte è capitato sì perché poi io sono appassionatissimo oltre che innamorato del calcio femminile ma lavorando per la radio televisione di San Marino abbiamo anche altre cose e altri sport da raccontare e quindi adesso ricordavate le medaglie quindi il tiro a volo per esempio oppure la lotta la lotta ma abbiamo anche altri eventi che stanno per arrivare per dirvi la prossima settimana se vi piace il nuoto a San Marino c'è un meeting di nuoto da fantastico con i migliori nuotatori medagliati italiani saranno qua a San Marino per ricordare un evento quindi noi saremo impegnati lì a giugno c'è la Nations League di calcio abbiamo la sfida con Malta di Davis Mangia con la nazionale maschile ci sono i giochi del Mediterraneo che si gioca si sono in programma in Algeria e lì ci saranno di nuovi tiratori impegnati quindi i giochi del Mediterraneo sono le olimpiadi dell'area del Mediterraneo partecipano Europa Asia e Africa noi anche se non abbiamo lo sbocco sul mare come San Marino partecipiamo però generalmente vinciamo anche forse la gente non se lo sa ma tu sei uno dei giurati che vota per il pallone d'oro sì e quindi ti chiedo chi hai votato quest'anno Lewandowski la voce della verità allora attenzione io voto per il pallone d'oro maschile pensavo anche a femminile no perché non abbiamo non ci hanno considerato perché non avendo non avendo un campionato non avendo ancora un campionato non ci hanno mai considerato a livello di pallone d'oro femminile però per esempio paradosso avete presente il premio the best della FIFA come no ecco voto anche per quel premio lì però in quel caso lì voto anche per il calcio femminile e ho votato Alexia Putejas quindi immagino che se avessi votato anche nel pallone d'oro avessi votato sempre lei sì sì no assolutamente mi sembrava cioè come mi sembrava scontato vincesse Lewandowski nel calcio maschile che poi sono stato completamente sbugiardato nel calcio nel calcio femminile secondo me sono un pochino più più corretti nella scelta poi l'altra domanda voglio farti un pochino più seria diciamo è legata appunto alla trasmissione no perché comunque sì io non lo nego che nell'ideazione comunque di questa nostra trasmissione delle puntate noi ci ispiriamo chiaramente a quello che avete fatto voi quindi ti chiedo come nasce una puntata di Passione Calcio cioè quando dovete pensare anche per esempio agli ospiti alle ospiti da far venire c'è una pensate a una ricorrenza particolare tipo quella squadra ha vinto per la prima volta allora chiamiamo quella squadra oppure a caso non lo so allora intanto ti ringrazio per la cosa che hai detto all'inizio perché siamo un esempio per noi un orgoglio e quindi il fatto che lo considerate un punto di riferimento è un grandissimo complimento che ci fai Francesco perché è veramente un bel complimento e allora devo dire che un po' di programmazione nell'organizzazione c'è perché noi cerchiamo di lavorare generalmente due settimane avanti due settimane avanti perché le ospiti che cerchiamo di portare a San Marino sono ragazze che studiano o ragazze che lavorano la nostra trasmissione non lo dico non è un segreto è registrata e quindi va in onda la sera e quindi ci organizziamo per registrarla il mercoledì durante la giornata e cerchiamo di scegliere le ospiti le ospiti le squadre a far partecipare la prima regola che ci siamo date è quella delle immagini dei video cioè nel senso nel limite del possibile cercare di partire dal fatto di avere il video della partita di quella squadra perché così abbiamo un punto di partenza cioè partiamo da come è andata domenica vediamo rivediamo la partita queste cose qua e quindi andiamo a vedere un po' quali sono le partite via dicendo tra la serie B la serie C e proviamo tra le squadre delle quali sappiamo ricevere le immagini provare a invitare quella squadra il Vicenza ti dico che è venuto ospite questa settimana con il presidente due giocatrici e il direttore sportivo Agresti l'abbiamo organizzato due settimane prima il Corte Franca per dire due settimane abbondanti prima perché avevamo piacere di avere anche Andrea Scarpellini ospite in trasmissione che alla quale noi siamo io l'ho detto in trasmissione profondamente legati perché quando siamo partiti siamo partiti lei era comunque un punto di riferimento del Mozzanica noi ci siamo occupati tanto del Mozzanica all'inizio anche grazie a Rudy Trolli che è uno dei migliori addetti stampa che c'è in Italia secondo me per il calcio femminile e quindi abbiamo per poterlo organizzare perché Andrea lavora abbiamo cominciato un po' a muoverci a muoverci prima dopo naturalmente questo ci mette anche nelle condizioni di lavorare ragionando sulle cose che dobbiamo preparare facendo una trasmissione da nove anni abbiamo anche l'archivio di nove anni di calcio femminile e quindi adesso realizziamo queste clip che vedete durante la trasmissione con i gol che monta un nostro tecnico che si chiama Rossano Pelliccioni che è bravissimo secondo me e le fa anche molto emozionali quindi di conseguenza piacciono piacciono tanto perché Marta Basso per esempio si è emozionata molto per il fatto di aver recuperato un gol che aveva segnato con la Virtus Padova otto anni prima e quindi c'è un po' di lavoro c'è un po' di lavoro dietro poi naturalmente devo dire una cosa che il fatto di farlo da nove anni ci aiuta un po' anche nei rapporti perché adesso quando ci presentiamo ti dicono ah sì ho capito già sanno chi sei sì ah mi è capitato di vedere la trasmissione e quindi quello un pochino ci aiuta sei sette anni fa era un po' più complicato perché comunque tu dici io sono Elia Gorini di San Marino RTV la tv di San Marino ma dove si vede cosa fate queste cose qua e quindi adesso è anche un po' più facile anche i rapporti con le società poi naturalmente noi cerchiamo nel limite possibile di avere sempre ospiti in presenza perché è più bello tanto potete potete immaginare poi naturalmente il covid ha costretto anche a rivedere un po' i format e quindi non neghiamo che usiamo skype come fanno come fanno tutti e via dicendo però la presenza in studio vi auguro di provare questa esperienza nel senso anche nella conduzione vi dà emozioni diverse perché poi quando avete un ospite vicino riuscite anche a capire cosa puoi chiedere perché reagisce queste cose qua ci sono anche delle cose molto belle quindi Marta per esempio si era un po' emozionata Ines portiere del Vicenza era agitatissima per dire e poi è stata magari bravissima noi poi Francesco cioè per noi il calcio femminile è una cosa seria ecco per farvi capire però noi la vogliamo trattare in maniera leggera cioè nel senso che è una cosa seria quindi la trattiamo con grande rispetto in maniera seria però chi viene da noi si deve divertire giusto e quindi vogliamo parlare di calcio femminile parlare anche delle ragazze e farle divertire e questo insieme a Paolo Crescentini siamo riusciti a farlo sempre sempre abbastanza bene poi c'è la volta che la puntata viene benissimo c'è la volta che viene magari un po' bene delle volte che dici sarebbe bello rifarla magari ma come tu mi insegni molto poi dipende anche dagli ospiti dicono ah cioè chiaramente certo stessa cosa possiamo dirla noi abbiamo avuto magari degli ospi che a fine montata abbia detto madonna c'è tanta roba e altri magari in cui boh perché un po' di timidezza un po' di ci sta uno magari non è proprio a suo agio a parlare quindi dipende anche molto da quello però no no non è una cosa guardate magari poi per chi lo fa diventa un'abitudine ma per chi non ha mai parlato davanti a telecamere o anche come stiamo facendo adesso noi non è così facile ragazzi quindi non è poi davanti alla telecamera non puoi quasi mai rifare quindi di conseguenza non è così facile aggiungo un'altra cosa nella scelta nell'organizzazione naturalmente dobbiamo vedere anche quanti contributi abbiamo perché a volte capita veramente di avere tanto materiale e quindi per così anche salvaguardare l'ospite decidiamo magari abbiamo deciso di fare delle puntate io e Paolo Crescentini da soli proprio perché avevamo tanto materiale adesso cioè per dirvi uno dei primi grandi ospiti che abbiamo avuto in trasmissione è stata Raffaella Manieri quando giocava nel Bayern Monaco cioè lei giocava nel Bayern Monaco quindi per portare Raffaella Manieri a San Marino RTV lei è di Pesaro San Marino Pesaro sono 30 minuti 35 minuti di macchina per farvi capire però lei era a Monaco quindi per poterlo organizzare lei venne in trasmissione da noi nella prima puntata di gennaio ma abbiamo cominciato a metà dicembre per portarla perché poi comunque serve l'autorizzazione senti il Bayern Monaco senti queste cose qua e quando è venuto siamo stati contentissimi perché c'era la sosta quindi un pochino un occhio al calendario noi lo diamo veramente a lungo a lungo termine ci saranno i recuperi di Serie C per esempio tanti recuperi anche infrasettimanali quelli sono mercoledì nei quali sappiamo non possiamo invitare determinate squadre cerchiamo un po' anche di giocare sui derby abbiamo il derby in Serie B Cesena-Ravenna per dire che è sentito molto a livello anche anche maschile e quindi lo sta diventando anche a livello femminile e allora cerchiamo un po' di giocare su queste cose sempre naturalmente logico noi siamo la TV di San Marino però non è che vogliamo fare come detto dico sempre cioè noi non siamo San Marino Channel cioè San Marino Academy Channel noi ci siamo voluti un po' sempre proporre come la televisione e il programma del calcio femminile quindi chi vuole partecipare alla nostra trasmissione lo accogliamo a braccia aperte siamo sempre lo dico come battuta ma è una verità preferiamo sempre ospiti femminili perché come diciamo sempre io Paolo già di uomini siamo troppi io e lui e quindi siccome la trasmissione sul calcio femminile sempre presidente al femminile direttori sportivi al femminile allenatrici al femminile calciatrici perché vogliamo che sia una trasmissione per le donne per le ragazze per il calcio femminile ultimissima domanda prima di lasciarti andare voglio chiederti ci potresti dare comunque un consiglio perché appunto come ha detto Francesco ti seguiamo e prendiamo un po' ad esempio la passione calcio quindi voglio chiedere un consiglio perché magari è iniziato anche da poco proprio fare più o meno la stessa cosa allora il consiglio sul calcio femminile o il consiglio sul giornalista vuoi? guarda più giornalistico proprio darci una mano da quel punto di vista allora per quello che posso dire io la prima cosa naturalmente come in ogni cosa che si fa è la passione veramente cioè la passione deve essere sempre maggiore dell'ambizione secondo me perché se c'è passione poi arrivano anche i risultati troppa ambizione porta eventualmente a mettere dei punti di riferimento che è importante da avere però poi è sempre la passione che fa la differenza almeno io la vedo così voi ne avete tanta e quindi di conseguenza potete soltanto migliorare non c'è possibilità di andare indietro perché se mettete passione poi si trasmette questa ed è una cosa che ci dicono anche le ragazze che partecipano da noi cavolo sono stato bene sono stata bene perché si sente che lo fate con passione non è solo lavoro è proprio anche passione quindi se voi riuscite a mantenere alto questo livello questa sticella della passione toglierete soltanto delle grandi soddisfazioni per quanto riguarda invece un consiglio così giornalistico di non mollare mai cioè nel senso che bisogna essere anche un po' testardi perché perché ti dico vi dico noi per esempio ma no cioè vuoi che Raffaella Manieri viene da Monaco ospite in trasmissione da noi è venuta vuoi che Milena Bertolini possa venire mai ospite a San Marino è venuta chissà se ma cioè non è che chissà abbiamo provato stai lì lavori cioè devi 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 starci un po' un po' sopra un po' so quindi devi lavorarci adesso con la Serie A come abbiamo detto prima è un po' più complicato quindi avete la scusante ve lo dico ma poi quello che dico è che alle brutte dicono no non è che provi a invitare a te a fare il tiro o no il passo più lungo della gamba alle bruttissime ti dicono no non è che non è che ti sparano quindi comunque giustamente tentare anche il colpo grosso ci sta noi l'abbiamo fatto per esempio con Melania Gabbiadini sì ho provato una volta vediamo se mai e ce l'abbiamo fatta guarda Francesco ti dico che io ho notato nascendo partendo dal calcio maschile sono partito come tutti dal calcio maschile come molti almeno e io nel calcio femminile ho trovato molta disponibilità grande 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 disponibilità che magari è più complicato non me ne vogliano cioè voglio dire non dico un giocatore di Serie A maschile però a volte trovi anche giocatori di Serie C maschile che se la tirano un po' e fai fatica magari a organizzare una cosa un'intervista io in questi anni se vi devo dire al netto degli uffici stampa che tendono un po' a essere un po' ermetici e abbiamo sempre trovato grandissima e grandissima disponibilità da parte del mondo del calcio femminile cioè abbiamo ricordo Cristiana Girelli per esempio alla quale siamo molto legati perché è stata una delle prime grandi giocatrici che abbiamo intervistato con noi è sempre stata stradisponibilissima quando abbiamo chiesto al Tempi del Brescia di realizzare delle interviste quindi bisogna un po' stare adosso marcare 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 e non arrendetevi perché e poi se vi posso dire provare più fronti perché poi quando quando magari se una cosa va male poi da un'altra cosa può nascere cosa e questo è il consiglio che vi voglio dare perché non pensiate che noi ogni puntata che facciamo la prima telefonata ci dicono sì veniamo eh quindi lo immagino lo immagino perché ve lo dico cioè è proprio complicato dopo cerchiamo di metterci del nostro lo facciamo sempre con come detto con passione infatti è nato a Passione Calcio per questo motivo qua perché vuole essere vuole essere questo un po' anche la vetrina per chi ci mette tanta tanta passione perché veramente ragazze che raccontano di aver preso di aver lavorato tutto il giorno poi la sera vanno ad allenarsi in condizioni meno meno dieci meno quattro sono sono eccezionali e quindi capisci anche quanta voglia c'è di calcio femminile abbiamo portato anni fa il Suttiro l'ospite a San Marino RTV sono partite da Bolzano abbiamo portato la Cese che vinse il campionato di serie B che partì da AC Sant'Antonio che è in provincia di Catania una macchina con Privitera Gioia Masia e Giuliano insieme al presidente della Cese con una macchina sono arrivati fino a San Marino cioè lo fai solo se hai passione una roba del genere Elia guarda grazie mille davvero per essere stato qui con noi non so quanto ti abbia detto Francesco che saresti rimasto alla fine sei rimasto il triplo del tempo quindi grazie mille davvero grazie a voi non mi sono neanche accorto quanto tempo siamo stati lo vedo adesso nel live perché poi mi fa sempre molto piacere parlare di calcio di calcio femminile poi quando si può parlare con chi di calcio femminile se ne occupa è anche più divertente perché così eviti la prima mezz'ora nella quale vi devi spiegare un sacco di cose avete presente quella fase nella quale ti chiedono ma i tempi durano uguali il campo uguale le porte sono alte uguali i campi sono più uguali ma giocano in undici il pallone è più grande è più piccolo esatto tutte quelle cose lì ma almeno quando parli con chi poi ci sta ragazzi perché è importante anche fare formazione da questo punto di vista così tutti un po' in pari però stasera qualcuno è rimasto incuriosito e guarda un po' più anche il calcio femminile lo dico sempre però bisogna guardarlo con l'occhio giusto cioè se uno guarda Juve Inter di Coppa Italia femminile deve capire che non è Juve Inter di Coppa Italia maschile cioè capito cioè bisogna avere un attimo un occhio critico io vi ringrazio di nuovo veramente per il vostro invito vi faccio un grandissimo bocca al lupo per la vostra trasmissione quando volete sono io Paolo se volete partecipiamo anche altre volte ci fa solo piacere mi permetto di fare momento referenziale autopromozione così magari chi ci segue lo ricordo che la nostra trasmissione va in onda il mercoledì sera dalle 22 25 così sempre prima guardate la Champions League e poi guardate San Marino RTV San Marino RTV si vede su Sky quindi che abbonato sul 520 si vede anche con TVSAT sul 93 e da ottobre in digitale terrestre in tutta Italia 831 il nostro canale si vede in tutta Italia quindi se volete seguirci da nord a sud da est a ovest noi siamo siamo qua e ci fa ci fa veramente molto piacere ragazzi veramente complimenti grazie 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 per tutto vive il lupo e a prestissimo speriamo un bel campionato del San Marino un attimo di stagione grazie ciao grazie a voi buonasera